La quarantena a cui il coronavirus ci ha costretti ha convinto anche i più scettici tra i cristiani di quanto i social network e la tecnologia in genere possano essere utili per condividere anche le cose della nostra fede. Del resto, se pensate che mediamente ciascuno di noi tocca lo schermo del cellulare più di 2600 volte al giorno, mediamente poi molti di noi anche più volte, come si fa a pensare che Dio possa restare fuori da una dimensione così importante della nostra vita? Tre anni fa, quando su WhatsApp è comparsa la funzione dello Stato, mi è venuta l'intuizione di fare un esperimento, di postare nel mio stato di WhatsApp ogni giorno un versetto del Vangelo del giorno che mi aveva colpito più degli altri, un'immagine a cui accompagnarlo e due righe di preghiera. Le reazioni che ho avuto fra i miei contatti sono state sorprendenti, non tanto quelle dei cristiani che magari rispondevano con un amen o con una preghiera, quanto quelle di chi non credeva e sono arrivate anche delle domande a volte. A questo punto mi è venuta voglia di raccontare quello che stavo facendo e poi di scavare un po' e di andare a cercare quali sono i motivi profondi per cui preghiamo, che cosa c'è di fondo nel messaggio cristiano che può davvero cambiare la vita delle persone. Questo libro è il tentativo di raccontare questa esperienza e di condividerla con voi. Se ne avrete voglia, buona lettura. Grazie. 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 Grazie.